E' stata presentata a Palazzo di Città Barletta nel corso di una conferenza stampa dal sindaco Pasquale Cascella la nuova giunta comunale. Tre le novità, Michele Lasala con delega le politiche della sicurezza, mobilità e risorse umane, Maria Antonietta Di Matteo delegata alle politiche infrastrutturali, manutenzione del patrimonio pubblico e lavori pubblici e Vincenza Di Maggio alle politiche istituzionali, istruzione, giovani e sport. Per il resto si tratta di conferme. Delega il bilancio confermata l'assessore Pansini di recente nomina, politiche per il territorio mantenuta dall'assessore Pelle, Di Vincenzo Antonio Michele con delega alle politiche della sostenibilità ambientale, Gamarrota Giuseppe con delega alle politiche per la produzione, l'innovazione e la competitività e Marcello Lanotte con delega alle politiche sociali. Intanto il sindaco ha mantenuto la delega alla cultura e alle relazioni istituzionali. Sindaco, allora la crisi è davvero alle spalle? Spero, però questo ovviamente non dipende da me. C'è una verifica democratica che deve essere sempre compiuta che arriverà a compimento davanti al Consiglio Comunale. Poi c'è ovviamente il giudizio della città che è interessata al rispetto del mandato elettorale e al compimento degli obiettivi che erano stati definiti. Tre volti nuovi, qualche cambio di delega? Sì, essenzialmente una ridefinizione della giunta compiuta indubbiamente attraverso un percorso tormentato, tortuoso, complicato che per certi aspetti è anche oscillato tra la giunta dei partiti e una giunta in cui fosse un po' più presente la politica. Perché voi ricorderete che sin dal primo momento avevo proposto una giunta politica che avesse un aggancio con la società civile. Nel momento in cui i partiti hanno richiesto di cominciare a guardare alle prossime scadenze elettorali, politiche e amministrative, assumendosi un ruolo più diretto, da parte mia ho chiesto che questo ruolo si potesse sviluppare in un collegamento sempre vivo, sempre attento alle esigenze della società civile. Ci sono state risposte in questo senso. Io spero che questa combinazione, il confronto politico-democratico nella città offre tra la società civile e i partiti possano produrre un risultato utile.